L'autista che il 20 marzo scorso ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella e poi ha dato fuoco al bus a San Donato milanese deve essere processato col rito immediato. È la richiesta del PM Luca Poniz e del procuratore aggiunto di Milano Alberto Nobili. La richiesta arriverà sul tavolo del GIP di Milano Tommaso Perna che dovrà decidere come scontato di mandarlo o meno a processo per strage aggravata dalle finalità terroristiche. Dopo poco più di due mesi di indagini la procura di Milano non ha più dubbi sulle intenzioni che hanno mosso l'autista. Gli inquirenti sono convinti che volesse fare una strage sulla pista dell'aeroporto di Linate per condizionare la politica in materia di immigrazione e intimidire la popolazione. Nell'interrogatorio davanti ai PM che si è svolto lo scorso 10 giugno nel carcere di San Vittore, il 47enne ha ribadito che non era sua intenzione fare del male a nessuno. Una versione che non ha convinto i magistrati. In base al capo di imputazione, infatti, l'uomo aveva l'intento di condizionare i pubblici poteri in relazione alle politiche in materia di accoglimento degli stranieri, di intimidire la popolazione. Tra le accuse contestate all'uomo anche il sequestro di persona aggravato, incendio, resistenza e lesione ai danni di 17 bambini, non solo per ferite ma anche per traumi da stress e psichici da violenza emotiva. Tra gli accertamenti svolti in questi mesi, i PM hanno considerato decisivo il videoproclama di 37 minuti che l'uomo mise sul suo canale privato di YouTube e che è stato recuperato dai carabinieri in queste settimane grazie anche alla collaborazione di Google. Viva il panafricanesimo, combattiamo i governi corrotti e critichiamo la politica europea che sfrutta l'Africa, diceva nel video. I PM ritengono che fosse perfettamente capace di intendere e di volere, tanto che nessuna perizia o consulenza è stata disposta. Ora la richiesta di giudizio è immediato, la decisione del GIP è scontata.